finalmente avete trovato un pvm nel mercato dell'usato ma cosa sono queste strane prese sul retro si chiamano connettori bnc e rappresentano lo standard per le connessioni video analogiche nel mondo professionale volete collegare la vostra console in rgb procuratevi un adattatore scart femmina bnc avete una console che esce solo in video composito vi basta comprare questo adattatore rca bnc collegatelo all'ingresso video composito del pvm e il gioco è fatto